Jack Savoretti Ci dà una mano a rendere poetici I titoli Ok Della Gazzetta dello Sport Sei pronto? Sì Ci danno una mano ai ragazzi Sono pronto Quando volete Il tecnico della Juve Per la nuova campagna acquisti Ha già in mente un progetto Rinforzare il centro campo Il Pjanic di Allegri Dopo l'annata dei rodetti Per gli scarsi risultati Il tecnico dell'Inter Ha dubbi sul futuro Sta pensando di fermarsi per un anno Tiro Mancini Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Libra è arrivata al PSG Come leggenda se ne va da Libra Milano sogna il ritorno Arribra Per gli scorni finalmente Per il milano ai cinesi Nuovi capitali In arrivo da Pecchino Silvio dice sì Libra si avvicina Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Nel bel mezzo di una grande stagione Il Peppita raggiunge un grande traguardo Segnando tanti gol Via con il 20 Dopo l'invenzione In Champions League Subita dal Barcellona Il campione argentino Rientra in Catalunya Torna a casa Messi Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Solo Gazzetta Questa è l'ultima Questa è quella serie Vai 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 Arrigo Sacchi Compia 70 anni Una carriera esemplare Alla guida del Milan Day Record Un Sacchi bello Per 5 anni La Juve Campione d'Italia Impresa storica Torino Bianco e nera Brinda Juve Cin 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 Questa è l'ultima Fondi Gazzetta 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 Ferri Fondi Gazzetta Grazie